Ragazzi, oggi tra loro tre, chi sarà a fare la sfida del salto dell'angelo? Beh ragazzi, premetto che sono più di 40 metri. Ok, quindi, ma che c... Cioè, ragazzi, sono completamente scomparsi, ma dove sono? Ma qua? Ma no! Ehi, bello, vieni qui, ma dove ti nascondi, eh? Beh, raga, ma guardate quest'altro. E quest'altro ancora! Ragazzi, non mi piace oggi come vi state comportando, eh? Comunque, penso proprio che sceglieremo lui. Facciamogli fare un lancio di riscaldamento. E raga, sì, Monkey vuole venire con me. Andiamo, andiamo. Oh, mannaggia. Si è fatto un po' malino. E che è un lancio di riscaldamento? Non glielo facciamo fare, eh? Ma ovvio. Vai, vai, bello. Andiamo da... Mannaggia, pesce. Ma tu poco, ma ci riva. Va bene, prendiamolo. Come sempre, indistruttibile. Prendiamo anche lui, raga, guardate, è diventato una sottiletta. Facciamolo ritornare a posto, scuotendolo in questo modo. E raga, se arriviamo a 10.000 like, lo lanceremo da lì sopra. Grazie. 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 Grazie.